Il tavolo di lavoro ha discusso i cambiamenti determinati dalla transizione verso sistemi di welfare territoriali con particolare attenzione al nuovo ruolo richiesto e ricoperto dalle imprese. In particolare i lavori si sono focalizzati sulla comprensione di come le imprese possono interagire con altri attori che operano sul territorio e quindi facilitare e supportare la progettazione e l'offerta di nuovi servizi che vadano al collaboratore e al cittadino. La soddisfazione dei nostri dipendenti rappresenta uno stimolo per continuare nella ricerca di strumenti innovativi rispetto alle normali politiche retributive, sempre con l'obiettivo principale di creare motivazione e fidelizzazione all'azienda ma soprattutto rispondere ai bisogni concreti dei lavoratori e delle loro famiglie. Per crescere e per avere successo sul mercato occorre assumere i talenti migliori. In una realtà che vede il 50% della popolazione mondiale come popolazione femminile è importante per noi avere internamente un riflesso di questa diversità.